AVERAAR 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 Ti osservo da tempo. Tu devi ricordare. Ho visto qualcuno laggiù. Non era umano. È un noto terrorista. E ha ucciso ancora. Non li hanno solo uccisi. Gli hanno aggherato il cervello. È ovunque. In nessun luogo. Lo troverò. E lo ucciderò. Non parli mai del tuo passato. Non ricordo molto, solo frammenti. C'è stato un attacco. Stavi per morire. Ti abbiamo salvata. E ora tu salvi gli altri. Tutto quello che ti hanno detto era falso. Tu avevi una famiglia. Ricordati di loro. Cosa sei tu? Quale opera meravigliosa. Che cosa vuoi da me? Non ti hanno salvato la vita. Te l'hanno rubata. Quanti ne avevate prima di me? Dovevate ripulirle il cervello. Vi ordino di terminarla. Maggiore! Mi hanno creato. Ma non possono controllarmi. savoir se vuoi. Quentin. Quanti ne avevo. Mi ha fatto appena. Perché lepticui. Quanti ne avevo. Quindi il disastro... ...